ciao ragazze ciao ragazzi bentornati sul canale oggi appuntamento con il catalogo di campagna 9 di avon in vigore per tutto il mese di aprile 2022 allora prima di partire con il video vi volevo dire che sto organizzandomi per cercare di rispondere ai vostri commenti che più passa il tempo più aumentano e di questo vi ringrazio come vi ringrazio anche delle iscrizioni comunque se non siete ancora iscritti al canale potete cliccare qui sotto dove c'è il tasto iscriviti ed è completamente gratuito ma partiamo subito allora per ogni prodotto acquistato da questa campagna potete avere il maxima a 15 99 o il rare gold a 13 99 di questi profumi soprattutto il rare gold vi ho parlato andate a cercare tra i miei video vecchi sui profumi dedicati ad avon allora qui va bene allora queste sono tutte matite contorno occhi a lunga tenuta a 4 99 mentre se acquistate il secondo pezzo invece di 4 99 lo pagate 2 99 e in più avrete il siero e new renewal campioncino in omaggio con questi sono tutti i colori poi qui abbiamo i massi il mascara 5 in 1 genius avon su e con l'acquisto del secondo prodotto a 4 99 avrete il campione del contorno occhi duo gel quello da applicare sia nella valle lacrimale che nell'arcata sopraccigliare che va a fare un effetto lifting i colori del mascara sono nero e marrone poi abbiamo qui i rossetti comunque non vi parlo delle offerte guardate in alto per ogni prodotto acquistato c'è un'offerta relativa in alto a destra da guardare questi sono i matt comfort quindi hanno una finitura opaca questo è il fondotinta power stay qui sotto tutte le tonalità e quella il fondotinta a lunga tenuta poi abbiamo gli smalti gel shine quindi quelli che hanno un effetto gel tipo di costruzione delle unghie per capirci far away beyond 22 53 prodotti quindi lote parfum da 150 si da 50 ml la lozione da 150 ml il profumo da borsetta da 10 ml scusate non è uno dei parfum è un parfum quindi ha un'essenza più alta alcune persone mi hanno chiesto qual è la differenza tra o de toilette o de parfum allora la differenza tra o de cologne o de toilette o de parfum e parfum è proprio la concentrazione di essenza all'interno del profumo quindi più la consistenza più la la quantità dell'essenza e alta più il profumo è duraturo nel tempo poi abbiamo qui ecco il contorno occhi che vi dicevo prima in offerta a 15 99 sembra un po altino il prezzo comunque vabbè e poi il secondo pezzo 8 e 99 quindi 9 più 16 fa 16 più 9 fa 25 diviso 2 12 e 50 all'uno dai ci sta questo è il siero quello con proteinolo è a base di minacinamide glicerina e insomma nebbene ho parlato anche il passato di questo prodotto qui abbiamo il mascara waterproof vediamo qualche dice super shock volume light super shock volume loader quindi uno volumizza di più uno di meno qui tutti gli altri mascara matite occhi matite occhi matite sopracciglia palette matite sopracciglia prodotti sopracciglia fondotinta cremoso finitura in polvere quindi dovrebbe avere un'ottima tenuta e opacizzare eventuali secrezioni sebace altri fondotinta liquidi il fondotinta due in uno quindi siero e fondotinta dovrebbe avere anche un spf 30 correttori spray fissante trucco 4 99 prodotti abbronzanti ecco qui non capisco perché è storto il catalogo flash perle di terra solare pennello angolato per il flash poi abbiamo la cipria altri pennelli i primer questo è un prime è il classico primer della linea magics che c'era c'è da tanti anni se non sbaglio da 2013 14 buono l'ho usato e anche una protezione solare ha un tocco sedoso asciutto e fa aderire molto bene il fondotinta alla pelle questi invece sono l'idratante magics e questo è antilucidità non l'ho mai provato se l'avete provato mi fate sapere per favore poi abbiamo i rossetti power stay le tinte labbra le tinte labbra power stay tinte labbra ultra color rossetti matite labbra rossetto ultra matt vedete le finiture sono qui questo è matt questo è un diciamo media lucidità sempre gli smalti prodotti per la manicure siero crescita rapida accessori per il trucco questo serve per lavare il i pennelli è di silicone va messa praticamente l'acqua va messa la il sapone muovete si puliscono i pennelli qui abbiamo le pinzette gold rose gold i trucchi della color trend burro cacao e rossetti della color trend prodotti e new profumo today tomorrow always vediamo che non me lo ricordo non si sente qui abbiamo tutti i profumi da donna non mi sembra di vedere offerte su questo catalogo mangiata un po da qualche tempo quindi boh profumi profumi questo dovrebbe avere se non sbaglio a non non è quello al miele è quello ciliegia gelsomino e vaniglia non si sente neanche questo tutti i profumi creme corpo deodoranti roll on ed odoranti spray acque profumate acqua profumata profumi da uomo sapete che a me la linea full speed non piace ma degustibus profumi da uomo black sweat essential questo c'è da parecchi anni è anche buono un orientale aromatico buono il mask air vediamo un po 60 qualcosa sia un acquatico un acquatico frizzante ci dovrà avere anche il vetive e forse zenzero bianco speziato salvia sclarea legno di sandalo bianco sembra buono molto estivo se lo prendo ve ne parlerò ma non credo che lo prenderò poi qui ci sono tutti i prodotti diciamo da uomo quindi profumi deodoranti gel da barba deodoranti spray gel doccia la linea von kerman quindi gel da barba rasoio poi qui passiamo alle creme per il viso la mia preferita è questa qui questa linea qui questo è il siero al retinolo questo è il siero all'acido ialuronico io ho ancora quello col vecchio pack che lo devo finire però lo userò sicuramente in estate perché in inverno è un po leggerino qui abbiamo tutta la linea di pulizia e new acqua micellare siero bla 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 questo è il mio siero preferito da quando hanno tolto il traversalist il mio preferito è diventato questo qui prima stava sempre in offerta adesso non più questa è la linea dedicata alle persone alle donne in menopausa cannabis esativa avanti uno tra fx bb cream e creme da giorno hanno tolto quelle da notte di creme non so perché detergente in linea ossigenante linea ageless linea per l'acne mia sorella è appreciuta tantissimo questa saponetta o questa non mi ricordo dice che si è trovata benissimo e durante il periodo diciamo così che hanno le donne non gli è uscito neanche un brufolo quindi approvata per i capelli shampoo sieri shampoo styling shampoo non mi soffermo tanto sui prodotti perché tanto sono sempre gli stessi quindi insomma più che altro quello che cambia sono le offerte linea naturales frozen planet spa che so queste perle per il bagno prodotti planet spa upon care creme corpo la mia preferita è questa e questa questa no questa no si anche questa creme mani 2 euro e 25 luna due creme mani a scelta 3 90 quindi 2 euro luna allora questa l'ho provata questa forse sì forse questa e non è non è nutriente quindi la mettete dopo 5 minuti sparisce sulle mani e non avete più cioè le mani tornato screpolate quindi no detergente intimo 2 a 7 90 solari prodotti per i piedi tramitratanti avonessence questo è il pesca bianca vaniglia orchidea bubble butt questa è la lavanda non si sente cioè ma ste pagine non lo so no non si sente va bene questi sono i nuovi avon senses hanno cambiato le confezioni delicate moment pera che è qua pera e mela e mughetto questa buona fresca estiva sì sì mi piace questo qui è un lavamani scusate prodotti igienizzanti prodotti per diciamo aiutare le donne di giù di giù orologi portafogli borse se sentite lo scoppiettivo è il caminetto che è acceso già mi dice ultima opportunità d'acquisto tutti per la casa diffusore di fragranza andele candele bracciale palette questo è il set questo è il set questo com'è buono questo buono ha una profumazione talcata floreale buono questo qui non penso c'era prima se non mi sbaglio o si aspetta buono questo buono buono sì sì questo forse lo prendo mini size il set con tre mini size da 10 ml siero la vitamina c siero l'acido ialuronico siero e new power serum scusate il covid questo è il far away aurora vediamo un po' buonissimo buonissimo allora ricorda un po' il far away però sembra più palcato e floreale più polveroso buono veramente buono veramente veramente buono sì veramente buono questo com'è ivy prive questo non lo conosco questo invece non lo riesco a sentire prodotti alla vitamina c e questo è l'idratante spf 50 alla vitamina c ok ragazzi questo è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao